Il presidente della provincia Michele Estrianese dopo le elezioni dei consiglieri provinciali è pronto per formare la nuova squadra di governo. Il criterio per scegliere il suo vice potrebbe essere quello del più votato, così come per le altre deleghe. Intanto annuncia subito interventi per la manutenzione delle strade provinciali. Ne stiamo discutendo, ci confronteremo più volte nei prossimi giorni e cercheremo di trovare una quadra, ma ovviamente siamo con un spirito del tutto propositivo, costruttivo e collaborativo. C'è poco da discutere su certe cose, quindi c'è un bel clima, dobbiamo svoltare finalmente dopo qualche anno di difficoltà economica e finanziaria forse avremo qualche novità positiva, stiamo avendo qualche novità positiva. Sarà un anno di grandi investimenti sulle strade, sulle scuole, grazie anche alla regione Campania, al governatore De Luca. Quindi la cosa importante per la fine è lavorare, dare un contributo. Ieri ho incontrato pure la minoranza e anche con loro stiamo improntando il tutto su un rapporto di collaborazione. Ovviamente ci sarà confronto e anche scontro su qualche tema, però io penso che uno dei criteri possibili possa essere quello del più votato, che poi contemporaneamente è stato già utilizzato dal Presidente Campore, una linea che ci siamo dati nel passato. Però diciamo anche di questo stiamo discutendo, però voglio dire con grande disponibilità e impegno da parte di tutti. Poi delega più, delega meno, non è più quello che conta oggi. Chiederemo di tenere presente tutte le cose, ovviamente ne parleremo pure col partito, voglio dire il Partito Democratico è il primo partito, quindi penso che la scelta del Vice Presidente ricada comunque all'interno del Partito Democratico e se utilizziamo lo schema dell'altra volta, diciamo il più votato è anche il più votato in assoluto. Però vi ripeto, anche da questo punto di vista si sta discutendo su questo e ne parleremo ancora tutti insieme nei prossimi giorni. C'è ancora un po' di tempo, va bene, non lo possiamo dire. Fateci ragionare, fateci prima condividere e poi ufficializziamo le cose.